Grazie a tutti voi che avete fatto strada per venire qui, è sempre qualcosa di fantastico, quindi grazie uno per uno veramente, grazie a tutti, mi raccomando continuate a sostenere la musica dal vivo perché questo è un momento molto difficile in questo paese di merda, molto difficile, tutto difficile ma la musica dal vivo sta diventando veramente un disastro e quindi onoro ai locali che continuano a far suonare le band, e onoro a voi che continuate a sostenere e andate a vedere, è una cosa fondamentale questa, perché noi stiamo dentro casa per dare la previsione e averci quello che ci dicono loro, invece noi dobbiamo stare insieme, dobbiamo comunicare, dobbiamo parlare, dobbiamo divertirci, dobbiamo fare altri da quello che vogliono loro. Spermai! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.